Non mi riuscite dal governo, il direttore quest'anno continuo l'approvazione di gran segreto trappintato e rezzolato per poter portare avanti i nuovi progetti sullo statuto e che sono contattenti di questo statuto che è il nuovo statuto, ma lo vuole nessuno, ma lo voglio dire, ma lo voglio dire, ma lo voglio dire, ma lo voglio dire, ma lo voglio ricercatori.